leggerezza benvenuti a casa braciola li abbiamo visti soffrire papà qua dice che non sono figlio vostro è vero te lo dico la prossima puntata questa è l'ultima e vabbè sei stato adottato ma non lo vanno li abbiamo visti spendere ho speso 95 euro non ho comprato niente perché cosa hai preso li abbiamo visti offrire solo luciano bracciola vi offre lo stendino spremi agrumi da un lato spedi i tuoi panni dall'altro spremi i tuoi agrumi li abbiamo visti disperare non sei mia sorella capito tu non sei mia mamma con le tette grosse non sei il mio letto non sei mia nonna morta li abbiamo visti azzardare mi gioco a casa poker pokerissimo ma come li abbiamo visti perdere io me ne vado sei i miei veri genitori ho perso la casa al gioco hanno sospeso lost non sono mai morta li abbiamo visti purtroppo leggerezza addio con la partecipazione di nessuno in particolare leggerezza benvenuti a casa bracciola